E' Marcello Pera, ex presidente del Senato, ispiratore del Comitato Nazionale Liberi per il Sì, il trascinatore della tappa campana del movimento referendario. Trascina dall'alto del suo profilo istituzionale, spiegando che la riforma fa, mentre il no conserva e arretra l'Italia in Europa. Trascina pure la discussione politica, spalleggiato da un'altra colonna ex Forza Italia, Giuliano Urbani, allorquando, rivolgendosi a scelta civica e ala, li unisce nel non PD, capaci di fare come nella rottamazione delle cartelle Equitalia. Dobbiamo lavorare su alcune zone, il sud è una di quelle, ma io credo che i contenuti della riforma che rendono finalmente, mi riferisco ai territori, i territori responsabili di sé e arbitri dentro un nuovo Senato, dove possono far valere i loro interessi, quello del sud è uno dei più importanti, insomma hanno tutti da guadagnare. Il fronte del no, mettere insieme Salvini, Ciriaco, De Mita, stando a questa campania, Massimo D'Alema, dal suo punto di vista? Questa è veramente un'aggregazione del tutto innaturale, dalla quale non emerge nessuna alternativa politica. All'appuntamento hanno presenziato decine di sindaci, aderenti dall'Irpini ai primi cittadini di Baiano e Sirignano. In sala presenti tra gli altri il vice ministro all'economia Zanetti, il senatore Verdini, il commissario regionale di cittadini per l'Italia a scelta civica Schiano e l'onorevole Angelo D'Agostino. I comitati del no stanno facendo gran fatica a sostenere il no, perché effettivamente dicono delle grandi bugie. Io faccio fatica a comprendere come mai uno come Berlusconi, oppure come l'area sua, pensa di mettere insieme, come giustamente c'è il professor Appera, D'Alema, insieme a lui, insieme a Grillo, per poi magari riproporre una nuova riforma. Mi sembra quando è otopistica o una cosa del genere. Sicuramente si poteva fare di più con la riforma, forse è una riforma poco coraggiosa, si poteva fare ancora di più e sicuramente ne sono convinto, ma sicuramente iniziare in una riforma e incominciare in un primo passo sta a significare far diventare di fatto l'Italia un paese europeo. Il cuore di questa riforma? Superare il bicameralismo perfetto, che vuol dire avere una sola camera che dà la fiducia e non due, fattore questo di enorme instabilità che ha prodotto 63 governi in 70 anni e quando hai governi che vivono alla giornata hai poi purtroppo un paese che vive alla giornata, mentre noi abbiamo bisogno di poter pianificare.